Siamo a Licolaborgo, in via dei Platani. Qui, qualche settimana fa, scomparvero ben 14 cassonetti della spazzatura. Ora, questi cassonetti, non si sa come, sono stati rinvenuti in questo spiazzale, che dovrebbe essere, secondo quando dice questo cartello, di proprietà del Comune di Pozzoni. Andiamo a vedere questi cassonetti, che qui ne hanno fatto. Ecco, ci sono ben 12 cassonetti, vuoti, stipati in questo spazio, e altri due cassonetti da quest'altra parte, insieme a difiuti di ogni genere. Ora, la domanda che facciamo è questa. Il Comune di Pozzoni è al corrente? È a conoscenza che questi cassonetti sono stati tolti dalla strada e sono stati messi qua?